allora l'aggiornamento del giovedì giovedì la nonna continua la sua cura ormai è praticamente guarita no beh guarita guarita no però sto bene sto bene sta meglio la tosse è andata via sto meglio continua a fare le punture prende le medici le prendi tutte le medicine si 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 sta al caldo non scende non esce oggi c'era una cosa che ha visto voleva andare giù a prendere ma non è andata perché sa che deve stare al caldo sono obbligato a stare in casa e allora non scendo devo dire devo dire io se mio se mi portano tutto mi servirmi servono tutto mi portano il pane mi portano tutto quello che ho bisogno e allora non vado giù regina viene sgridata quotidianamente sul non andare giù no 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 ora pensiero principale dopo la cura è solo uno il presepe c'è da fare il presepe il presepe della nonna è qualcosa di veramente magico l'anno scorso io ricordo che c'era un cacciatore con un fucile puntato verso qualche povera pecora del presepe quindi non si sa ma non era il cacciatore era il padrone perché sa che ci sono i lupi di notte e allora bisogna far scappare i lupi perché le pecore non devono essere mangiate non era a tutto senso quindi ci sarà una lunghissima storia sul nostro presepe dove magari un cavallo è alto così e il bambino è alto così quindi sarà non in proporzione e non deve essere tutto perfetto deve un po' essere un po' sarà il presepe più bello del mondo state pronti perché appena abbiamo il tempo e la nonna ha voglia anzi in realtà magari già adesso o domani facciamo adesso domani quando vuoi te facciamo uno spoiler come si fa la neve lo vogliamo dire no 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 la nonna ha pensato a un modo per fare la neve da mettere sotto come sì perché la neve non la vediamo più l'anno scorso non l'abbiamo vista e allora io la faccio artificiale c'è un cannone che spara come le piste da sci come in valformazzo noi abbiamo il cannone per per la neve il cannone della luigina per la neve ci sono un sacco mi fai venire la tosse c'è ancora un pochettino di bronchite io faccio venire la tosse ma mi fai ridere la colpa cade sempre a me sei qui te a chi devo dare le colpe a chi era qua che girava in canottiera con 40 gradi c'è un sbalzo e la colpa è mia ma la smettiamo di ci assumiamo le nostre responsabilità è una bella donna la colpa però nessuno lo vuole è una bella donna la colpa però nessuno lo vuole anche se è bella è un proverbio bello è una bella donna una bella donna però nessuno lo vuole allora questa sera c'è lo spezzatino no però c'è lo spezzatino sì c'è lo spezzatino stasera sì sulla stufa perché è più buono più buono tanto viaggia la stufa viaggia anche il riscaldamento però quando di notte che la stufa io non la faccio andare va con un'altra cosa in questa casa fa così caldo che adesso uscire dalla casa e mettersi in giardino ma alle 6 di sera alle 11 di sera sembra di passare alla spiaggia alle piste da sci e uno giustamente non sa come vestirsi perché ma mi crede davvero non devo più fare tanto caldo così sono 47 gradi dentro la casa in questo momento oggi sono contenta ho ricevuto tanti bei regali e tutti belli utili belli 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 ma io non so come sta gente però lavoro lavoro tutto fanno tutto a mano ma sono veramente brave 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 donne brave gli uomini ho i bambini che aiutano ma guarda che hanno pensano e poi la fanno ma guarda che è bello vederli io prima lavoravo facevo qualcosa adesso sono diventata cattiva io voglio solo riceverli adesso non farli più ma guarda che questo maglioncino era un me l'hanno regalato certo è bellissimo bellissimo tiene caldo sai adesso va di moda tutte le maggiori fashion stylist worldwide ma ho la tante cose che non ho mai veramente tante cose che ho ricevuto e che ho cantonato adesso ma perché non stavo bene adesso vedrai che ogni giorno metterò un bel crembiolino metterò farò la brava farò la brava cercherò di essere più brava più presente più presente per fare contento il mio nipote per fare contento ma lui mi fa contento me non posso aprire la bocca che voglio una cosa che subito va a comprarmela subito parte con quella macchina niente mangi no no le mancette li do ieri l'hai rifiutata la mancia non l'hai voluta allora la nonna sta guarendo sta sempre meglio io sto scoppiando di caldo adesso mi toglierò la felpa sei su una felpa pesante sia mai che uno indossa la felpa al primo di dicembre stupido io che l'ho sbagliato io no non essere stupido però è pesante questa va bene allora ciao 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 vi voglio bene vi auguro una bella notte e buona serata una bella serata e se avete dei bambini dateci un bacione da parte mia dateci e anche alla moglie cari mariti voleteci bene le moglie fateci una carezza di è la carezza della nonna luigina un bacione forte dai dai abbracciate la vostra moglie dateci un bacio fate fatene uno e un più lo so che lo fate però fatele a mio nome stavolta tutti gli uomini devono abbracciare le sue moglie le sue fidanzate abbracciatele gli amici abbracciatele questo bacio è della nonna luigina perché la nonna luigina li manda tutti però non posso abbracciarli io vorrei abbracciarli fatelo per me grazie fatelo eh ubbiditemi eh perché io ubbidisco quasi sempre e voi dovete ubbidirvi e fatelo vedrete che non li trovate pentiti eh perché se si dà amore si riceve amore io vorrei dare tanto amore ma ma come faccio vi voglio tutti bene quando è di notte che io penso tutti a voi di giorno guardo la casa guardo i miei gattini guardo chi passa così di notte penso uno penso i regali penso tutto poi dico chissà cosa fanno chissà cosa dicono vi voglio bene vi voglio bene vi voglio bene ciao buonanotte buonanotte a tutti sogni d'oro ciao ciao che bella questo del bacio quando l'hai pensato adesso l'ho pensato così da nulla bravissimo ma sì ma vuoi farina eh perché io non posso dare dare baci a tutti come faccio io vi dico voi ma specialmente i mariti voletele bene le moline io sono stata fortunata ma più fortunata di me forse non so se ce ne tante mio marito era bravo intelligente era intelligente sino faceva tante cose belle era amico di tutti però mi voleva veramente bene però io volevo bene a lui eh ci volevamo bene visticciavamo dopo un minuto non sapevamo neanche più che abbiamo visticciato e facciavamo pace e non passava perché è logica come si fa non visticciare qualche volta noi visticciavamo sempre per i gatti adesso perché lui ci dava sempre tanto da mangiare poi lo avanzavano ma no bisogna dare sempre le cose regolate ma lui lui era abbondante il nonno era abbondante eh sì il nonno era bravo era bravo me la ricordo tutti i giorni il mio siro sì mi manca mi manca mi manca però lui diceva che io devo stare contenta perché lui se sono contenta io è contento anche lui lassù e allora la faccio per lui e infatti mi riesce ad essere contento quando passo che c'è lì le fotografie di mio dico ciao siro la saluto sempre prima di andare a dormire devo parlare delle due paroline siamo stati assieme tanti tanti 60 anni di matrimonio e abitavamo vicino ci siamo sempre conosciuti sempre sempre forse non so avevamo 3-4 anni quando parlavamo giocavamo abitavamo quanto neanche in chilometri da lontano io passavo sempre davanti a casa sua e lui mi salutava veniva fuori e così e così ciao siro ciao davide ti voglio bene ti voglio bene bacione ti voglio bene 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 ti voglio bene sì si parla sembri questa è una parola un po' troppo sai da chi assomiglia un po' non mi ricordo come si chiama l'asciura del titanic quella che all'inizio dice sono passati così tanti anni hai mai visto ma c'ha questi occhi tutti limpidi lucidi chiarissimi ma non lo so bene comunque va bene è così la storia è così la storia adesso io bevo una bella tisana poi dopo facciamo io vado a prendere un po' d'aria che penso è fatta una sauna di un paio d'ore io ho solo una maglietta vedi e uno di sotto e tu stai dentro poi adesso devo andare a casa mia fa un po' più freddo eh a casa mia fa un po' più fresco perché oggi non è stato acceso tutto il giorno e boom è così così è però l'onna sta un po' meglio meno male adesso mi hanno mandato un campanettone di cioccolato non l'ho mai mangiato l'onna ha l'obbligo di far durare questi panettoni almeno due settimane una settimana ma un campanettone non puoi mangiarlo in tre giorni no no abbiamo appadito tanta fame tanti tanti anni fa che adesso guarda come apro la bocca dai voglio il prosciutto va subito dai voglio il prosciutto non posso aprire la bocca che dopo mezz'ora ce l'ho mi vuol bene mi vuol bene